Ok Ok champ L'ho già visto, l'ho già visto Dark No Mario Io ho deciso di fermarmi, è stata la mia scelta quella di fermarmi Mario Lo so, lo so Sainal E vai Ci sta, mi è piaciuto Desideri anche iniziali W, un po' meno Però Rader è un simp Rader è un fonto simp Ah ma mi sono scordato di chiederti l'altra volta, come sta la sèche? Che tanto che non lo vedo Mi preoccupo per i miei guadagni venziti, ecco Oddio che brutta azione Ok Bene bene, non lo sta aggiungendo più all'oro mai, quindi niente sub Peccato, peccato dai E' importante che sia bene Karma Senna Ok Oh Ok Ah 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 buona che lane non 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 Ma ho messo lì dal tempo Vabbè sono un ebete Cioè contro karma e cosa ho messo lì dal tempo Holy shit ma quello non ho copiato Oppure mi è scriccato Ma che cazzo io non ho copiato Holy shit Era free food work tutta la vita Buono Forse era meglio freezzarla però Credo la do bene anche pushare Ecco tutto il jungle là What? Volevo aspettare più tempo possibile Oh fuck dude Volevo aspettare più tempo possibile Credo non do dietro di fine di soffrire il food work La web è bussata L'ho lasciata così perché dovrebbe bussarci Questo altro ladro Just my bed It's ok It's ok still Michalotrox è sto stra behind Ce l'avevo messo pure male E c'è Ignite Certo Julian That's ok C'è una volta che c'è Ma perché io non ho preso il karma se dove è, carino? Ma perché io non ho preso il mondo, non ho preso il mondo, non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Qual è l'altro snack preferito e perché proprio i tralli? In realtà non è vero. No esledi, mi sembra di no. Non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo. Non ho preso il mondo, non ho preso il mondo. 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 Che sarebbe stato ancora meglio Uno snack preferito Boh Non ne ho uno in particolare 0-3 Adrox Flash niente contro Camilla Cringe Camilla fiddata potrebbe essere un problema per me Ma se vado bot Intel top Se vado top Intel a bot Ma io che cazzo devo fare Per giocare un game come Cristo Comando Io che devo fare No non so Eringo in realtà E' come qua Troppo qua Cosa vi do dopo io Sì Manto mi sono tutto il cazzo Il game è perso Cioè Sono bore di Di giocare con questi player qua Cioè letteralmente Vinco bot Inta top Vinco top Inta bot Ma che cazzo devo fare Ma che cazzo devo fare per giocare un game Che devo fare Stom razor come secondo Che devo fare Sono tiltato Cioè Ciao Gabri Eh Ciao Gabri Qu'è la mia Luttati tu, luttati tu Ma più possibile di salvarsi lui che io I don't know Non so cosa si debba fare per vincere un game a questo gioco Eh ma so, glielo flashano sempre a Mazak, non è che è colpa sua Oh no Cosa è una 0-3-3 da inizio il game Alexia da quanto tempo ho l'escita Grazie mille il supporto Ale, benvenuta nelle tennine dei lupi Pensavo fosse il tipo di Camille, sarebbe aggato il suono Grazie Ale, come va? Da quanto tempo rimuoli? Regaliamo, Storm Razor Immagino Rapid Fire adesso, ho preso lo slot di Karma Nulla Mio 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 M Holy shit, raga Sono rimasto l'apre Non prendo i danni di qui desolato Mo' mi arriva Camilla qui, però Oh Noi sono abbastanza strong Forse è meglio fare PD Ma, ma è ranged Ranged, actually E ho fatto pochi grit, ho poco attack speed Cazzo Ho giocato bene, ho shottato Karma Però ero posizionato male rispetto al mio team Cioè, non ero posizionato male Perché ero comunque lontano dai carry Ma ero posizionato male Rispetto a come era il mio team Sì, ma arrivederci ho avuto l'unibus clock Mi do vision, se volete Double TP e tutti e due possono spropusciare Dopo l'APD vado assolutamente di Bravo, ho fatto via prima Morto lo stesso Sì, va E' travi Dove per forza provo a fare una seconda del genere, tanto Magari ma FK non vuole vincere, no Boh non so due partiti di fila Maite Oh, non lo so, ho due partite di fila pure Mastro, non lo so Magari si è attaccato ecco l'avrei villato qua. Maga FK. Tommi il flash qua senza senso. Ma se andavi dritto scappavi? Ma che cazzo? Io fosse nello detto sarebbe scappato. LOL Ah se ne ha 14. Bel gameplay 136.25. E non ha formato il support. Ciao Enve buongiorno bro. Ciao Enve buongiorno. E poi non è solo il terzo drago però... C'è la Black Lear. Magari leva un po' di armor faccio più da niente. La Karin però un po' fa così. C'è il game si può vincere altrimenti. Grazie mille a Julis 11 mesi ribanduto le cani di cane bro. No, non so. Tiltate che strati è difficile. Non so se dovessi fare la biofarkennon a sto punto. Non so se dovessi fare la biofarkennon. Ho messo belle trappole qua perchè cazzo se non potrò scappare di qua. Buono buono. Cazzo. No non c'è gay. Serve danno. C'è un nuovo buono studio. Ma è uguale qua non mi ha pitato nessuno da Camille. Zilean c'ha la ultima o me la so da su di me? Cioè. Fa la venica su di me. Zilean ha la ultima. Stile ok per me. Ma Zilean deve ultare me e non quel lab di Diatrox. EPD già ce l'ho ragazzi. EPD già ce l'ho ragazzi. EPD già ce l'ho ragazzi. EPD? EPD? Sì Sì Ho bisogno della Swiss per pure Non ho fatto danni a Camilla Sì 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 Qua abbiamo sciotto due ecco a me serviva l'executioner Però pure la Swiss part non sarebbe male Vabbè. C'è lì l'altro item, però... in andata. Tutto bene, Absolute Deluxe, tu come stai? Dimmi che c'è la Sterak. Oddio, non c'è la. Eccolo. Posso non finire il game, credo. Eh, ragazzi. Non riesco. Hanno troppi danni. No, forse i game non lo finiscono. No, non lo finiscono. Ok. Fanno inhibitor, credo. Avrebbero potuto finirlo, vabbè. Doppio inhib. Ok. Oh, cazzo. No, ma là era brutto fedare per me. Gli era brutto fedare per me perché non c'ho spazi per andare via. Lì lì non dovevo fedare. No, hanno grabato Karma. Killata. Poi mi arriva anche Camille Tutin. NGL. Fight in large places. NGL. Che cazzo si andrà a fare là? 630 gold. Eh, ma senza zidia andranno a chiuderlo. Vieni qua, vieni qua. Ma... Ho potuto non ho pushato bot, così almeno non c'erano la voce per pusharla, però... Lecce? No. No. Lecce. No. Ma. Grazie. La domanda è se adesso voglio buildare l'elisir quello che fa danno o meno ma credo io no, ho già abbastanza danno ho vinto quello tank che mi porta? Più lo scudolo da pd Ma perché è che il minore calla? Cioè questo ce la stai intendo ragazzi E ora non giurano gli split ovviamente Boh però l'atrox è grosso adesso Vai botta l'atrox Ah non c'è nessun tipo di zilla che non può reggere nessuno ovviamente, poverino Oggi sono dei fiori Oggi sono dei fiori Scudone o scudone o Oggi sono dei fiori o Grazie. Potremmo prendere il Nashor qua. Grazie. Grazie. Ho portato quello quello sbagliato, zina. Cioè, holy shit, dude. In teamfight te le ho smarfate, giuro. In teamfight te le ho smarfate, cazzo. Holy shit. Che game. Mamma mia, what the fuck, dude. Vediamo i danni. Eh, back at the client. Appena il client mi farà vedere i danni, sarò più che curioso di vederli. Vabbè, bagato niente, ragazzi. GG. Ok, me li fa vedere. 43k, pensavo di più. Non male. Bel game. Bel attempted. Znato del club. Gli che. Ficump số. driven. young. Che. Joé. Vabbè. Grazie.